Sono Enrico Argiolas, vengo da Cagliari, sono venuto qua in Moldavia per curarmi i denti. Ciao a tutti, sono io, Adriano Argenti, il vostro dottore e vi saluto un grande saluto da qua, da Moldavia. Oggi noi vogliamo parlare di un nostro paziente che con il tempo è diventato il nostro amico. Ciao gruppo, mi chiamo Gian Battista, questo è l'ultimo step che ho fatto qua a Chisinau. Mi sono trovato veramente bene sia con le ragazze dell'accoglienza e con i medici. Questa è la situazione dei pazienti a prima vista, come lui è arrivato alla nostra clinica. Parliamo che qua sono le denti che erano al 100% da togliere. Si è messo in prima visita 8 impianti sotto e 8 impianti sopra, ma si è caricato solo 6 impianti sopra e 8 impianti sopra. Perché gli ultimi impianti erano con grande razzo. Mi sono trovato molto bene e devo dire che sono rimasto scioccato. Perché sono molto professionali del lavoro che mi hanno proposto, che in Italia mi hanno sempre detto che era impossibile fare. Quando sono arrivato qui in Moldavia hanno subito visto il mio problema e mi hanno detto che si poteva fare benissimo l'impianto. Che ho otto impianti su, otto impianti giù e alla fine ho fatto questo lavoro e sono contentissimo. Questo paziente è stato un paziente classico che si è fatto veloce in due visite. Lui è arrivato in giugno e adesso in settembre è già con i denti definitivi. È stato un paziente bravo che si è lavorato senza problemi. E noi siamo contenti di avere questi tipi di pazienti che con il tempo diventano amici. Venite, venite perché vi troverete veramente bene. C'è un paziente clinica eccezionale, pulizia stupenda. Fidatevi, fidatevi e fidatevi. Ho visto che il dottor Palmas ci tiene al paziente e mi ha fatto una bella impressione. Poi è sardo come a noi e quindi ancora meglio. Ho avuto fiducia in lui. E' una persona che è brava, diciamo, che ci tiene al lavoro. Ed è convinto di quello che fa. E ho visto che mette molto coraggio anche ai pazienti. E per me è una persona meravigliosa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.